25 dicembre 1996, nella notte la nave Johan, carica di più di 400 migranti indiani, pakistani e singalesi, si scontra davanti a Portopalo con la F-174, un'altra imbarcazione con a bordo altri immigrati, partita da Malta alla volta della Sicilia. Dopo l'urto la F-174 cola a picco, portando con sé 283 persone. Solo in 29 riescono a salvarsi. Il trafficante di uomini della Johan non lancia l'SOS, ma fugge facendo rotta verso la Grecia, dove scompare. Si consuma quella che viene ricordata come la strage di Natale. Grazie a tutti. Shakur Ahmad, pakistano, è uno dei passeggeri delle carrette del mare che è riuscito ad arrivare in Italia. È un passeggero speciale perché si trovava a bordo del peschereccio maltese F-174, che è affondato nel canale di Sicilia nella notte di Natale del 1996. Sono morti 283 clandestini provenienti da India, Pakistan, Sri Lanka. Il naufragio fantasma, così definito perché ignorato per anni. Per molti anni che ha negato parte del governo italiano, anche del governo pakistano, che questo naufragio non è stato. Finché io, come presidente dell'associazione lavoratore pakistani, non presentati qua testimoni che sopravvissuti in quel naufragio. Fino a quel momento nessuno credeva. Come sei arrivato in Italia? Come ti sei organizzato questo viaggio in Grecia? A chi hai chiesto? Io trovo quella persona che paga Pakistan. Come persona mi dice che tu mi dai soldi e te lo porto in Italia. La stessa organizzazione che aveva gestito il viaggio sulla Iohan si occupa dei clandestini superstiti quando vengono sbarcati sulle coste del Peloponneso, in Grecia, alla fine del dicembre 1996. E' vicino da amare una camera. Lui mi dice che tu hai parlato, spiega con un fratello. Lui, con un fratello mio, c'è Pakistan. Tutta storia che conta di gente a fondo, morti, tutti. in Italia. In Italia. In Italia. In Italia. In Italia. In Italia. Grazie a tutti.